ti sto molto bene ciao 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 grazie di essere qui 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 con me oggi 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 facciamo un video che so che ad alcune persone piace proprio in modo particolare e anche a me piace tanto girare cioè il mi trucco con voi e anche un po' di trucco insomma un po' di cose che passerò sul mio viso magari cercherò di passarne un pochino anche sul vostro sto utilizzando questi due microfoni che ho utilizzato penso solo in un video e però mi piacciono molto non so perché io non li utilizzo di più ditemi se vi piace la qualità e se li preferite rispetto ai soliti oppure preferite i soldi il suono è diverso se non dico miglior o peggiore ma sicuramente diverso e ok ho scelto anche un suono con i capelli sporchi quindi benissimo e cominciamo subito io con me ho portato questa bocetta è carinissima secondo me ma che soprattutto non sono stupendo e per prima cosa visto che ho le labbra che sono secchissime vado a prendere il buracacao quelli tra tante labbra questa bocetta è carinissima perché piace il colore è molto elegante poi ha tantissime tasche ne ha una anche qui davanti appunto in cui ci ho messo questo ormai è venito l'ho utilizzato tantissimo e respirando molto spesso con la bocca adesso perchè l'ho stoppato e ho la bocca ancora ancora più secca se mi ricordo vi lascio tutto tutti i nomi di ciò che uso in descrizione tutti i nomi e i numeri insomma di ciò che uso in descrizione altrimenti ricordatemelo grazie ok ho aperto la zip e guardate che bella dentro veramente pur che ho abito di mettervi il mio no? è una tipa bella ma fa riscomparti dentro una borsetta trasparente per magari metterci le cose che manchiano no? è veramente veramente carina infatti me lo chiedevo e la borsetta trasparente può restare sia attaccata che staccata perchè ha una parte in velcro che si attacca sul fondo bella guardate che bella è leggermente rosata e questa è una nata iepoda in occasione del loro evento molto molto carina quindi da aprire anche questa io comincerei con la skin tint che mi metto praticamente solo quando mi trucco con voi perchè non è un prodotto che utilizzo particolarmente spesso di frequente comunque e anzi non è vero veloce vedere che cosa veramente utilizzo come primo come seconda secondo prodotto prima della base vado a mettere questo questa è una mini size mini size mini size mini size si chiama boost ed è un booster di imperfezioni è una così all'acido zelaico che si mette appunto sulle imperfezioni per farle maturare più velocemente su brufolette appunto per farle maturare più appunto in modo più veloce e a me piace tantissimo come prodotto veramente vediamo te ne applico anche un po' a te qui che ne hai una piccolina però ok dopo questo vado con skin tint utilizzo questo pennello che non è adatto no è ok di mulac che in realtà si chiamate jolly brush quindi immagino vado un po' bene per tutto ok e vado ad utilizzare questo prodotto che ho provato proprio qualche giorno fa che è lo skin tint si chiama oh my glue ed è la skin tint numero uno davvero più chiara e coprente in realtà secondo me parte è una comprensa base leggera e poi forendo si può appunto stratificare fino ad arrivare a una coprenza media la marca è espresso oh e il pack mi piace da matti molto carino allora mi metto i capelli indietro e non ho idea se bisogna mettere dire il prodotto sul viso prima ne ho messo già troppo ne ho messo troppo ne ho messo troppo allora ne prendo ok ho verificato prima che fosse ovviamente più o meno del mio colore dovrebbe esserla non non direi sia no no non no non 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 no 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 sono queste perline che fanno casino mi sto guardando proprio solo nella nella videocamera quindi torniamo a guardare mi corto anche bene va tutto intorno al naso ok allora fatemi vedere un attimo si non sembro lucida anzi non sono lucida giusto vediamo vediamo sentite pare che essere un sacco il viola degli occhiai però del resto direi che è venuta abbastanza bene, ne vuoi un pochino anche tu, vado un pochino anche sul tuo viso, facciamo un piccolo touch-up intanto da oggi riprenderà la, in realtà anche dallo scorso video però, riprenderà la normale, la classica programmazione dei video quindi ogni lunedì e giovedì, di sera, circa verso le 19.30, 20.30, sapete che dipende molto anche dalla connessione e un po' anche sul collo, portiamo un po' giù bene, mi è finito con questo e come avrete visto, avrete notato, nelle vacanze di Natale appunto ho un pochino rallentato poi vorremmo rallentare, che per realtà ho rallentato solo la prima settimana delle vacanze, invece in questa in cui sto registrando questo video che è la prima di gennaio, mi sto mettendo un po' avanti quindi nel caso poi io non riesca, per vari motivi, soprattutto perché c'è casino, a registrare poi sempre un video adesso passerei subito al correttore prima vado con questo questo è un altrimenti è un po' di gennaio un po' di gennaio e un po' di gennaio e adesso il correttore qui mi è stato inviato un pacchettino da Maybelline con diversi correttori di diverse shade ora io di questo correttore non so bene la mia shade la mia colorazione perché io usavo un mix di due correttori sempre di questo correttore famosissimo qui e ne utilizzavo due insieme che vi davano la colorazione perfetta però non ci sono qui i due colori quindi devo scegliere un altro nel mezzo io penso usassi il 2 insieme al 10 quindi il 2 è troppo chiaro il 3 devo vedere un attimo quali ci sono allora vediamo ce ne sono meno da 3, 4, 5, 6 abbiamo l'8 che a me sembra un attimino scuro però per realtà si è massimo più scuro di quanto sono quindi magari andrebbe bene anche perché altrimenti c'è il vabbè questo palese non è per me c'è il 2 che è troppo chiaro il 3 lo 0, 1 e lo 0, 2 appunto vabbè devo scegliere il fai l'8 e il 3 solo che io vorrei capire prima quale può essere più adatto così non voglio spiegarli ecco non voglio aprirne uno e gli altri li vorrei appunto dare a chi ha altri colori di pelle di persona mia ecco guardiamo qui e guardiamo qui sapete così li apro entrambi questo mi sembra un po' rosato il 3 possibile come si fa a sapere se è più rosato intanto ha prodotto e poi vedo prendo il pennello per correttore ok ho preso questo guardiamo guardiamo è scuro è scuro eh sì è un po' scuro aspettate apro anche lo 0,2 proviamo a mischiarlo mi sembra così mi sembra così scuro 0,2 mi sembrano identici praticamente qui c'è poca luce vabbè proviamo questi due tanto non devo andare da nessuna parte però mi sembra mi sembra neanche male come vi sembra pare che aprono tantissimo pazzeschi cioè guardate la differenza e boh direi che va bene quindi prendiamo un po' da uno un po' dall'altro due due un po' due 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 ok a me sembra decente di solito mi sembra decente poi vado a riguardare il fisico ma che cavolo a me sembra comunque ok quindi vado a mettere un pochino di correttore anche a te alzo un occhio e vado forse un po' scuro il correttore il bandotentano vado sia sotto anche sopra un altro occhio del suo alto Ok, ok, ok Passiamo ora direi alla mascara, anzi all'ombrettino che mi metto sopra Non voglio esagerare onestamente come trucco Non voglio esagerare Quando ho i capelli un po' sporchi, non mi piace avere tanto trucco addosso Mi fanno sentire ancora più sporchi Non so se c'è senso Normalmente no però Vado a usare questo natural eyeshadow di questa marca Che non vuole mettere a fuoco assolutamente Il numero 003 E vado un po' sull'occhio, questo è molto luminoso, molto carino Però anche leggerino, c'è un'una di pretenzione Ok E Oggi Su Instagram oggi è il mio oggi, quindi non quando avete visto questo video ma un pochino prima E ho fatto uscire un reel sul mio appuntamento in solitaria E se mi interessa la mia vita, oltre all'ASMR Se volete potete anche seguirmi lì Lì posto principalmente Contenuti Vabbè storie riguardo appunto la mia vita, il mio dietro le quinte, il mio lavoro Un po' di vita privata Poi posto un po' di ricette E plant-based Semplicissime Per aiutare chi vorrà iniziare a mangiare un po' più vegetale Ma non so dove iniziare Io faccio altri contenuti come ad esempio Se vado al mercatino dell'usato L'oltre al mercatino dell'usato Oppure Vi mostro cosa mio padre che è bravo a cucinare Cucina la domenica per me Di vegetariano Oppure ci ho anche questa serie di contenuti Che si chiama appuntamenti in solitaria Intanto ti metto L'ombrettino Te la metto un po' qui E un po' qui In cui Te lo sfumo con le dita, ok? In cui appunto Vado da sola Da qualche parte Quindi non aspetto che qualcuno Voglia andare con me Al cinema A un mercatino particolare A fare certe cose Ma le faccio da sola E questo lo faccio sempre Per incentivare me a farli Sia per Per appunto Incentivare anche le altre persone Magari A non avere paura Andare in giro da sola Andare a pranzo Da soli Eccetera eccetera Che È una cosa Normalissima da fare Anzi Può essere anche molto bello Stare appunto In compagnia di se stessi Io ho fatto Appunto C'è tutto questo rally In cui sono andata In un varettino E ho steso tutti i miei obiettivi E i desideri Del 2024 E mi è piaciuto molto E volevo chiedere appunto Se avevate Un obiettivo Un desiderio Del 2024 Che volevate condividere Non tutti Secondo me Ho imparato Quel tempo Che in molte cose Meglio tenersene per sé Però magari Un qualcosa di semplice Che sia Vorrei visitare Questo paese Oppure Non lo so Qualcosa di molto semplice Vorrei aumentare La mia media In questa materia Vorrei prendere trend In questa materia Insomma cose semplici Non obiettivi della vita Ecco Se volete Vedete nei commenti Appunto Condividetele Se la sentite Altrimenti nulla Posso capire Allora Ok Vado a usare Questa Matita Di Charlotte Tilbury Che mi aveva inviato Ed è stata Una di Pacchi PR E di cui sono stata Più emozionata Di ricevere Ed è il Pillow Talk Eyeliner E vado Un pochino qui Oltre l'occhio Se vedete qualcosa Si Ok Proprio è una linea Sottilissima E Delicatissima Di te Questo suono Stupendo Mi cantino appunto Con questa riga Sono nella codina Dell'occhio Vado anche Sull'altro occhio Guardi Ok Allora se mi è venuta Decentemente Sono un mago Perché non ci vedo Nulla Andiamo a vedere E direi che il risultato Poteva venire pezzo Si sentisse Questo suono Ok Ne prendo un altro Di Di Un pochino E lo vado a mettere Anche a te Ok Quindi Ti tiro un po' L'occhio Mascara Mascara A me piace molto Mettere il mascara Marrone Mi piace proprio da Quando ho fatto Di make up semplici C'era maggiore parte Del tempo E mi piace più Mettere il mascara Marrone Rispetto a quello lì Questi rumori li tengo Tutti e due Tutti e due Il primo lo uso Praticamente come primer E il fatto che si riesca A sentire Leggermente Il suono del mascara Se vi concentrate Prova di sentire Dopo ci vi provo Ecco E lo uso Per pettinare Un pochino E invece Uso un'altra Mascara Molto più Consistente Questo vedete Lo scolino Molto diverso Più grande La clessitra E questo Povero a metterlo Senza specchi Aiuto E con questo Vado proprio Su tutte le cilie Vedete che Dà Molto molto Colore Molto volume E Vedete che bello L'effetto Del maschera Marrone È stupendo Secondo me Non Non si nota Un primo impatto Che è marrone Non nero Però non è un effetto Molto più delicato Secondo me Su Certe Certe Tipole di viso Guardate che bello Il risultato Comunque Molto Non lo so È molto più armonioso Secondo me Il risultato Adesso vorrei mettere Un po' di mascara Anche a te Dimmi se preferisci Questo mascara Che è un po' più Leggero Un po' più marrone Che è un po' più caldo Ma È estremamente Di definizione Cioè Vi dirà fuori Ogni 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 Pelo Delle ciglia Che avete Questo invece Più volume Quindi va proprio a dare Cioè si vede tanto Mi sono Più un effetto naturale Più un effetto Forte Un effetto naturale Ok Forte Quando allora Tsi 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 Tsc Tsi up 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 hat uesta Tsi 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 Ink zik 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 up 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 adesso manca solo un po' di blush e beh ho portato una matita labbra che mi piace tantissimo che trovo abbia proprio il mio colore preciso di cui non trovo il rossetto corrispondente cioè ce l'avevo e non lo trovo in casa quindi mi manzo le mani ma almeno la matita e mi sono anche segnata il colore questo poi la riacquisto subito allora tiro fuori entrambi tirato fuori tutto allora il blush che vado a usare è un blush molto particolare e che ero convinta non avrei usato neanche più a sbaglio qua e la come ha fatto i sogni stupendi ha un bag un po' particolare e questa è una benedint 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 è una tinta molto liquida labbra e guance l'ho usata anche sulle labbra sulle labbra tinge molto poco sulle guance tinge tantissimo perché prende proprio un modo diverso e si usa ha un odore di sapete che ha un odore precisissimo ma non riesco a capire di cosa ciò non è talmente fatta che anche con la freddora lo sento no non riesco a capire e vado a fare due puntini qui vado a disegnare due cerchietti e vado a dare la prima passata ok nell'altra guancia cercare di portarlo un po' in alto e io direi che ne mettiamo un'altra passata magari sono un pallino adesso io sono la tipica 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 persona la cui personalità è il suo blush cioè senza blush non mi ci vedo mi vedo smorta già con il blush dico ho un po' di colore ed è si ho tantissimi blush e non riesco a mollarne neanche uno perché dicono questo dai è carino lo uso qui lo uso questo e vado però anche molto in vista cioè ho dei periodi in cui uso solo 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 questo blush ed è impensabile utilizzare degli altri cioè ne hanno dei periodi in cui ho un solo blush non ne userei per niente altri e ok quello che mi piace di questo blush è che secondo me ha un effetto abbastanza naturale e ma soprattutto dura tutto il giorno io mi giuro un blush così duraturo non penso di averlo mai provato cioè in generale quelli in crema durano di più di quelli in polvere questo sicuro ma questo sono a pelle senza fondatinta perché di solito non me lo metto dura po' almeno 6-7 ore veramente tantissimo perfetto cioè mi piace troppo e c'è molto lo vuoi provare? lo so che lo vuoi provare ok allora vado prima su una guancia ne proviamo prima poco per vedere anche come ti sta il colore e vado a sfumare ok ti sta molto bene però secondo me è anche una pallina sufficiente anche perché abbiamo fatto ho fatto il tuo make up un pochino più leggero del mio quindi un po' risulterebbe un po' eccessiva però che bello anche su di te ti sta molto bene ti dà un'aria molto fresca molto molto bene ultimissimo step 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 trovata questa ve la dico non sono la collana questo vi dico che matita labbra perché so che me lo chiederete è la 104 flash di mesauta veramente è un colore perfetto nude perfetto per me io lo amo su di me e per questo assolutamente devo guardarmi quindi quel make up è venuto bene dai allora vado prima qui io faccio un leggerissimo overlining leggero leggero soprattutto in alto in realtà sono in alto ok e al resto invece seguo le mie labbra e sotto invece non faccio nessuno overlining ok vedete che il colore cioè se lo sfumassi potrei anche lasciarlo così è un po' più caldo delle mie labbra leggermente un po' più rosato invece da matti però non è troppo caldo e vado a riempire anche questo adora un sacco come tra l'altro mi piace molto mettere le adite labbra come rossetto perché danno l'affetto non so mi piace molto misto fra rossetto e tinta ok ecco l'ho messa abbastanza bene allora vedermi così forse avrei messo un pochino più di blush ma al massimo lo metto quando sono giù perché voi non voglio esagerare non è vero vuoi un po' di matita o no? non la vuoi? ok dicevo non è vero non ho finito non lo so ti risulta troppo strano condiviso la matita labbra con me non saprei in ogni caso stai benissimo così e ditemi cosa cosa ne pensi anche di questo di questo color labbra se mi sta bene se boh io sono la mia impressione non saprei e io non mi sono accorta del tempo che passava ovviamente il video durerà un po' di meno perché non tutto il girato sarà poi nel video finale però il girato durerà 58 minuti ci ha messo tantissimo mancava mi fa sempre piacere parlare con voi e niente da oggi da questo video si ricomincia ufficialmente quindi io vi auguro un buon riposo un buon relax o una buona giornata o una buona notte e io penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 se ha aggiuntato l'ora ti 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 a abbassar le luce ci 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 e augurar augurarti a te, a te, a te una buona, buona, buona notte sogni d'oro, sogni d'oro good night sweet, sweet dreams buona notte, buona notte dulces, sueños, sueños buona notte buona notte buona notte vete, show your head show your head good night le canoste le canoste buona notte nei piccoli ma che non sono le pesche buon suono buon suono che le spera buona notte buona notte buona notte